ho sostenuto il TFA secondo ciclo il TFA terzo ciclo cioè sostenuto, superato quindi mi sono specializzato nel sostegno ho preparato tantissimi insegnanti per il quarto e quinto ciclo devo dire che fortunatamente gli insegnanti che mi hanno seguito sono entrati tutti addirittura chi ha provato o diversi insegnanti che si sono preparati per il TFA quarto ciclo hanno superato sia la prova per la scuola secondaria di primo grado che per la scuola secondaria di secondo grado adesso stanno facendo, hanno appena finito il TFA quarto e stanno concludendo stanno a metà del TFA quinto ciclo allora da che cosa iniziare perché il percorso di preparazione non sarà semplice come vi ho accennato i posti per il TFA sesto ciclo sono poco più di 6.000 non sono pochi quindi parliamo dei posti per partecipare al tirocinio formativo attivo questo tirocinio verrà seguito all'interno delle università l'argomento oggetto delle prove per accedere a questo corso di specializzazioni viene indicato in un vecchio decreto ministeriale del 30 settembre del 2011 e io senza che insomma dovrete andare a riprendere il decreto ministeriale vi dirò quello che sarà importante studiare per superare la prova preselettiva lo scritto e l'orale tra l'altro ci sono persone che ho seguito e che hanno lasciato anche dei commenti dicendo per fortuna che ho seguito dei video perché sono serviti per andare bene insomma per superare il concorso per ora i video rimangono gratuiti vediamo insomma pure quante visualizzazioni abbiamo per capire se proseguire questa serie di video vi dirò anche i gruppi cercheremo di essere a 360 gradi i gruppi vi segnalerò dei gruppi facebook da seguire per prepararvi vi dirò anche ci sono in realtà anche dei gruppi di whatsapp però lì è un po' più difficile perché ci sono dei numeri di telefono sicuramente posso darvi dei link utili link utili di giornali blog relativi comunque alla preparazione del concorso ci saranno essenzialmente quattro macromaterie su cui prepararsi ve le dico rapidamente e poi ve le dico in maniera più approfondita e poi vi rimanderò ovviamente ad altri video allora il primo primo ambito la prima chiamiamola competenza è di tipo psicopedagogica in realtà sulla pedagogia già nel mio canale troverete veramente forse già centinaia di video però considerate che sarà anche diversificata in funzione dell'ordine e grado di scuola diversificata per ordine e grado poi due sicuramente goleman quindi empatia e intelligenza emotiva il terzo tassello è relativo alla creatività e al pensiero divergente scusate se non metto tutti i puntini su lei la quarta tematica sarà collegata a tutta la parte diciamo giuridica il regime di autonomia delle istituzioni scolastiche sicuramente adesso andiamo un pochettino più in profondità allora sicuramente ci sarà tutta una parte che riguarderà la da parte vostra la preparazione relativamente alle competenze linguistiche e con questo intendo anche comprensione del testo quindi leggere un brano poi ci saranno delle domande con delle risposte relativamente al brano ci saranno dei distrattori e dovrete diciamo intuire la risposta giusta come già detto non lo ripeto diciamo che qui dobbiamo anche aggiungere socio psicopedagogico ovviamente perché c'è anche un aspetto sociale che va considerato per quanto riguarda la preparazione sicuramente ci saranno domande vado un pochettino ad allargare il discorso relativamente all'empatia all'intelligenza emotiva quindi ci saranno domande che verteranno sul riconoscimento oppure o la comprensione delle emozioni gli stati d'animo e i sentimenti degli studenti degli studenti l'aiuto che il docente può dare all'alunno affinché quest'ultimo riesca ad avere un'espressione una regolazione adeguata dei principali stati affettivi quindi principi chiamiamoli così principi di aiuto del docente verso il discente queste sono tutte macro aree sicuramente verterà anche sulla capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive quindi anche verterà anche sulla autoconsapevolezza anche relativamente alla relazione educativa e alla didattica quindi autoanalisi consapevolezza dimensione emotiva l'abbiamo diciamo detto didattica ancora non l'abbiamo non ne avevamo parlato abbiamo detto sicuramente che ci chiederanno competenze sulla creatività sul pensiero divergente quindi come generare strategie innovative ed originali alcune di esse alcune strategie e metodologie didattiche quali ad esempio il concassaggio già esistono dovrete impararle poi ovviamente queste metodologie devono essere finalizzate sia tutto al panorama dell'ambito verbale che logico-matematico quindi anche attraverso il linguaggio visivo motorio non verbale sicuramente vi dovrete preparare affinché possiate avere competenze organizzative relativamente all'organizzazione scolastica agli aspetti giuridici come vi dicevo prima e i quali sono connessi sicuramente all'autonomia scolastica poi da qui veramente ci sarebbe un mondo da dire ancora è sicuramente fondamentale TOF il piano triennale dell'offerta formativa oltre che l'autonomia scolastica l'autonomia didattica spero di riuscire a fare un video che non superi di molto dieci minuti ovviamente questa autonomia didattica poi si sviluppa in autonomia organizzativa autonomia di ricerca sperimentazione di sviluppo le reti di scuole poi modalità di autoanalisi e autovalutazione dell'istituto autovalutazione dell'istituto se adesso rischiate di andare un po' in difficoltà non vi preoccupate perché queste cose sono semplici vanno solo affrontate ovviamente io vi dirò come detto anche vi potrò dare anche dei consigli su quali gruppi seguire purtroppo ci sta un mondo che lucra ci sono sicuramente avranno già attivato tantissimi corsi che si fanno anche ben pagare alcuni dei quali non sto dicendo non ce l'ho contro i corsi a pagamento alcuni saranno ottimi altri purtroppo soprattutto per quello che mi riferite voi potrebbero essere dei soldi buttati anche per quanto riguarda i testi alcuni saranno eccezionali attenzione ci saranno gireranno anche tantissime persone che vi diranno guarda io ho gli appunti migliori del mondo fortunatamente sapete che io a parte che mi sono fatto un nome a parte che tutti mi conoscono sanno qual è il mio percorso sanno che ho veramente preparato tanti concorsi ho preparato tanta gente state vedendo che insomma non c'è non ci sono altri interessi da parte mia oltre che quello di aiutarvi e questo penso che sia già qualcosa di guarda non voglio dire di unico però spero che sia qualcosa cioè più che spero purtroppo è qualcosa di raro ritornando all'autovalutazione che abbiamo quasi finito quindi all'autovalutazione e anche all'automiglioramento relativo all'istituto sicuramente tutto quello che riguarda la documentazione tutto quello che riguarda gli organi collegiali i compiti il ruolo del consiglio di istituto del collegio dei docenti del consiglio di classe del team dei docenti del consiglio di interclasse le forme di collaborazione interistituzionale l'attivazione delle risorse del territorio le informazioni e il coinvolgimento delle famiglie il compito e il ruolo delle famiglie e tanto altro ancora tutto questo potremo affrontarlo spero insieme allora adesso che siamo arrivati alla fine del video come sono solito fare se vi è piaciuto e pensate che potrà essere una risorsa in più qualcosa insomma io vi dico anche di dubitare di essere curiosi di provare insomma a seguirmi e vedere come va lasciate comunque se vi è piaciuto lasciate un mi piace se non vi è piaciuto o non mettete niente o mettete il pollice in giù che vi devo dire sono uno dei pochi che lo dice però fatelo qui avete la possibilità di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanellina perché tante persone quando io poi vado in streaming in diretta magari con 20 minuti di tempo non riesco ad avvisarle quindi con la campanellina sarete sempre aggiornati qui avete la parte più importante qual è siete voi quella dei vostri commenti qui avete anche la possibilità di condividere il video con le persone che sono vostre amiche perché anzi io vi invito a crearvi se potete dei piccoli gruppi di crearvi cioè di studiare anche insieme perché sicuramente l'unione fa la forza io con questo insomma do un caro saluto a tutti i miei prossimi a tutti i miei futuri colleghi e a tutti quelli che i miei colleghi lo sono già sono veramente entusiasta di poter insomma di aver capito di avere anche un pochettino di tempo da dedicare al TFA sesto ciclo e con questo buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani di giornata